Mi piace guardare la mia squadra, la classifica che in questo momento occupiamo, quella che speriamo di ottenere domenica sera e di allontanarci al più presto dalle zone basse per poi, magari la vincessimo, guardarla in maniera leggermente diversa. Mi serve in fortuna di Fernandez e mi fortuna di questa settimana oppure ovviamente se ne protolerà ancora di più la sua assenza. Ma questo non lo so, lui è stato fermo martedì e mercoledì, ha provato giovedì e si è allenato anche ieri e stamattina, però ripeto con gli giocatori che siano al 100% e quindi vediamo martedì come starà. Mi sarebbe utilizzabile una conferma di giranti con torturi davanti o qualunque cosa sarà? Tutti stanno bene, si sono allenati tutti bene e chiaramente questa assenza ci farà pensare insomma anche su un'altra situazione che abbiamo anche visto stamattina, quindi insomma sono fiducioso perché ripeto il gruppo che sta bene, a parte i non convocati che per scelta tecnica e per qualche altro problema non sono con noi, però stiamo bene. Partire molto forte insomma, cosa che i ragazzi hanno fatto domenica è cercare di aggredirli, cercare di far la partita ma quello che chiedo sempre ogni domenica, insomma sia in casa che fuori, voglio che la mia squadra abbia questa precisa fisionomia e che sappia insomma anche leggere le situazioni durante la gara, quindi sta passando purtroppo una cosa che a me non piace ma i ragazzi sanno che non è così, insomma di una partita materasso, questo non è assolutamente vero. La Carrarese, guardate i nomi, è una squadra importante che in questo momento è in difficoltà però è un campionato questo ancora lungo e tutte le squadre si equivalgono in questo girone.